ciao a tutti io non sono riccardo milani il regista ma sono paolo il suo peccanico di fiducia vi volevo dire che da febbraio 2018 sul canale 243 del digitale terrestre ci sarà zelic tv non so se non le spiego ma bella ricca allora l'ho fatta ho fatta ma fammi capire cosa ma sempre russa su canale dai stella in sale voraci da febbraio 2018 inizia la grande avventura di zelic tv canale 243 del digitale terrestre mi raccomando è tutti sintonizzati da febbraio cosa ci sarebbe senz'altro della buona musica parola del poma di lambrati zelic tv canale 243